Ciao, qui è Ruggero dalla The Drumbuster Academy e oggi con questo brevissimo video voglio farti vedere quali sono i requisiti minimi che è necessario avere per trarre il massimo beneficio dalla partecipazione al One Day Workout collettivo. Per iscriverti ti ricordo di guardare il link in giro per il post per vedere qual è la data e la location più vicina a te. Ora ti farò vedere quattro semplici esercizi tratti appunto da questi workout e se tu riesci a farli senza problemi allora sei a posto e puoi iscriverti e finalmente potrai trovare il sistema definitivo utile per te per colmare le lacune di tecnica nelle quattro aree che sono mani, piedi, combi, mani, piedi e ostinato e anche per la tua gestione della sessione di studio in modo da poter accelerare tutto il processo di apprendimento e sviluppo. Questo è il primo test dedicato alle mani. Facciamo la stessa cosa in ternario Ora passiamo ai piedi, prima senza mani e poi ci aggiungerò le mani sopra Internario Ora parliamo invece delle combi mani piedi Ternario Ultima area, quella degli ostinato, questa è la prova Ternario Ternario Se riesci a fare senza problemi questi quattro coppie di esercizi allora vieni spedito al One Day Workout Collettivo perché troverai pane per i tuoi denti per sistemare le lacune pregresse per quanto riguarda queste quattro aree della tecnica e uno schema efficace, una strategia efficace per comprimere lo sviluppo e il mantenimento della tua tecnica Ci vediamo al One Day Workout Collettivo Fammi sapere Ciao Ciao